Sindaco, anni di intenso lavoro, siamo a metà strada, lei questa sera fa un consuntivo e lo fa pubblicamente, a noi ci riassume invece questo lungo percorso di lavoro? Congelare posso dire che riassumere in poche battute un lavoro lungo 943 giorni non è impresa così semplice, però lo diciamo con orgoglio e con soddisfazione. Oggi in occasione nella quale il Sindaco porgerà gli auguri di buon anno alla città dove ci sarà un brindisi e poi lo spettacolo degli Alagozei, per la prima volta credo, non vado a memoria ma non vorrei sbagliarmi, il Sindaco condividerà la relazione di metà mandato non semplicemente in consiglio comunale ma con l'intera città. In quel confronto diretto, così come detto in campagna elettorale, noi siamo abituati a mantenere le promesse perché le promesse sono impegni sacri e pertanto così faremo oggi. È un bilancio di 943 giorni dedicati al lavoro, al lavoro per questa città, al lavoro costante senza lesinare sforzo alcuno e con gioia, con gioia, questo lavoro è stato quasi sempre ripagato dal raggiungimento di importanti traguardi. Abbiamo recuperato una miriade di finanziamenti e questo lo dico con orgoglio, là sopra qui sulla mia cassettiera trovate 6-7 caschi che io conservo che sono le pose della prima pietra e così ne avremo accettanti ancora per il 2020 se Dio vorrà ancora di più. Tutto questo perché noi crediamo in un nuovo futuro a Palma di Monde Chiaro. Certo, l'impatto una volta eletti è stato un impatto assai particolare perché abbiamo trovato una situazione che era abbastanza preoccupante. Dopodiché col lavoro, senza polemica, mettendoci con la testa bassa e chiusi a Palazzo degli Scolopi, viaggiando da Palazzo degli Scolopi verso la regione siciliana, non perderò mai occasione per ringraziare il Presidente Nello Musumeci, l'On. Di Mauro e tutta la deputazione che è sempre vicina nei confronti della mia città. Abbiamo avuto notevoli traguardi, tra i quali il CCR, diverse scuole, tutta una serie di importanti finanziamenti che Palma cognava da tempo. Palma adesso è una realtà che si staglia in un panorama diverso e che proietta fuori una immagine di sé diversa. I miei concetti sono tornati a essere orgogliosi di essere palmesi e questa è la mia vittoria più grande. Quanto ha inciso l'attenzione di Dolce Gabbana? Dolce Gabbana è stato il degno ripagamento, il degno premio per tanto lavoro. E quindi evidentemente è stato come un ulteriore catalizzatore per il lavoro svolto. E noi non prendiamo l'occasione per ringraziare l'Amerson Dolce Gabbana per aver scelto Palma e speriamo di riaverli qui al più presto. Sindaco, voi siete talmente forti della vostra bellezza, della vostra capacità di un territorio comunque fertile da candidarvi a capitale della cultura oppure? Sì, abbiamo questa sfida, a noi piacciono le sfide, anche quelle che apparentemente possono sembrare un po' difficili perché vi è più soddisfazione e vi è più gioia nel raggiungere le sfide quasi dette impossibili. Ma non sono impossibili, chi conosce veramente la storia di Palma, lo splendore delle nostre radici sa che noi appena un titolo combatteremo in senso buono per questa battaglia. E poi chissà, arriveremo tra i primi dieci, tra i primi cinque, potremo anche vincere. Palma lo merita, noi siamo qui a lavorare giorno e notte affinché questo sogno si realizzi. Però già abbiamo vinto, perché se oggi il Corriere della Sera parla di Palma di Montechiaro perché è candidato a capitale della cultura, noi abbiamo vinto. Se i miei concittadini mi fermano come se fossimo in un mondiale e mi dicono sindaco vai avanti perché possiamo vincere, Palma ha già vinto e noi siamo qui onorati di servirle.